In vista delle prossime feste che ci condurranno all'Epifania 2024, il piccolo comune di Santa Elisabetta, guidato dal sindaco Domenico Quelli, rinnova l'appuntamento con le tradizioni popolari, tra tutti l'evento famoso della pastorale di Nardo, la fiera agroalimentare, la sagra della ricotta, insomma una quattro giorni da non perdere tra gusto, tradizioni e cultura. Si inizierà mercoledì 3 gennaio in corso Umberto I alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale con una tavola rotonda dal tema Eredità e materiali a Santa Elisabetta, a seguire la mostra fotografica alla pastorale di Nardo nel Tempo. Una raccolta di fotografie a cura dell'associazione Cometa e del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024, quindi il giorno giovedì 4 gennaio alle ore 20 in corso Umberto I vicino la Biblioteca, la tradizionale degustazione della pecora in brodo e la classica salsiccia, con un accompagnamento musicale della serata con i Sicilia Cantus a cura del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024. Si entra nel vivo venerdì 5 gennaio alle 19.30 in piazza Giovanni XXIII in via Municipio, con i sicani, viaggio tra i sapori di un tempo, la sagra della ricotta e del formaggio e le relative degustazioni, quindi alle 20 l'inaugurazione della fiera mercato dei prodotti caseari e agroalimentari del territorio e non manca l'accompagnamento musicale col gruppo folcloristico e cocalos. Serata clou, il sabato 6 gennaio, con la pastorale di Nardo, si inizia alle 7 con la sveglia e la musica delle tradizionali zampognare dei tamburi, la celebrazione eucaristica, quindi la banda musicale per le vie del paese, alle 10 degustazioni di ricotta e tuma fresca, quindi l'apertura della fiera mercato dei prodotti caseari e agroalimentari del territorio. Alle 11.30 la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre, alle 13.30 l'inizio della pastorale nella Chiesa Madre verso piazza San Carlo, per concludere alle ore 18 con la processione e celebrazione eucaristica a seguire fuochi d'artificio offerti dall'amministrazione a cura del Comitato Parrocchiale Pastorale 2024, insomma una quattro giorni a Sant'Elisabetta da gustare, da non perdere.